Pupo non ha mai nascosto di avere un amante. Le due donne della sua vita sono sempre state al centro delle sue parole nelle interviste che ha rilasciato. Di recente il cantante ha approfondito la questione rilevando come si è riuscito nel corso degli anni a convivere in questa situazione e a farla accettare anche dalla moglie. Non è stato affatto comodo, ho sofferto anch'io per le mie passioni e le mie perversioni, ma non ho voluto rinunciare a quello che ero e che sono. Dire la verità entrambe mi ha aiutato a trovare un equilibrio e a vivere al meglio la mia possibilità del rapporto con le due mie meravigliose donne. Pupo e l'amante Patrizia infatti stanno insieme da qualche anno con il benestare della moglie dell'artista. Non le metto in competizione, non le metto a paragone, una senza l'altra non esisterebbero. Mia moglie ha sempre saputo che la tradivo e non le ho mai nascosto quello che poi negli anni sarebbe diventato una vera e prova patologia, la dipendenza dal sesso. Con l'arrivo di Patrizia ho trovato un equilibrio. Pupo e l'amante, insieme alla moglie, si ritrovano spesso come testimone a questa foto che ritrae tre insieme sorridenti. Contenti loro!